Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò ed andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E' beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. In quei giorni Maria si alzò ed andò in fretta verso la regione montuosa ad una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Colpisce profondamente il modo come la Vergine Maria esegue ciò che Dio le chiede. Immediatamente i suoi progetti personali sono messi da parte per fare quello che Dio le prospetta. Fin da subito Gesù è l'ideale unico e sublime per il quale vive. La Madonna ha manifestato una generosità senza limiti durante tutta la sua esistenza terrena. Dei pochi passi del Vangelo che si riferiscono alla sua vita due ci parlano direttamente della sua attenzione agli altri quando partì immediatamente per assistere la cugina Santa Elisabetta affinché nacque il figlio Giovanni e alle nozze di Cana quando intervenne a favore dei giovani sposi. Erano atteggiamenti abituali in lei. La Vergine non pensa a stessi ma agli altri. Lavora nelle faccende di casa con la massima semplicità e con gioia e anche con raccoglimento interiore perché sa che il Signore è con lei. Tutto è santificato nella casa di Elisabetta dalla presenza di Maria e del bambino che porta in grembo. In Maria abbiamo la prova che è la generosità e la virtù delle anime grandi che sanno trovare la migliore ricompensa nel dare. La persona generosa sa dare affetto e comprensione, aiuto materiale e non esige che la comprendano, la amino e la aiutino. Dà e dimentica di aver dato. In ciò ripone la sua ricchezza. Ha capito che vi è più gioia nel dare che nel ricevere. scopre che amare è dunque essenzialmente donarsi agli altri. Lungi dall'essere una inclinazione istintiva all'amore vero è una decisione cosciente della volontà di andare verso gli altri. Per amare veramente bisogna distaccarsi da molte cose soprattutto da se stessi e dare gratuitamente. Questa rinuncia di sé è sorgente di equilibrio. È il segreto della felicità. Dare allarga il cuore e lo rende più capace di amare. L'egoismo impoverisce, restringe l'orizzonte. Quanto più diamo, più ci arricchiamo. Se ci sembra che nonostante la lotta ancora ci domini l'egoismo volgiamoci alla Vergine Maria per imitarla nella generosità e proveremo così la gioia del darci e del dare. Abbiamo bisogno di capire meglio che la generosità arricchisce e dilata il cuore. L'egoismo, al contrario, è come un veleno che distrugge, lento a volte, ma sempre inesorabile. Vicino a Maria sentiamo che Dio ci ha fatti per la dedizione e che ogni volta che ci risparmiamo per i nostri progetti e per le nostre cose, senza tener conto della sua volontà, moriamo un poco. Per gli apostoli Andrea e Pietro fu questione di rinunciare alle reti, alle barche. Per la vedova nel Tempio di offrire i due soldi, però hanno dato tutto, tutto quello che avevano. Tutto ciò che hai, talenti, aspirazioni, successi, non ha valore se non lo metti a disposizione di Gesù. Non ha valore se non lasci che egli salga liberamente sulla barca della tua vita. Tu da solo, con la tua barca, se fai a meno del Maestro Divino spiritualmente parlando, viaggi diritto al naufragio. Soltanto se accetti, se cerchi la presenza e la guida del Signore, sarai al riparo delle tempeste e dei frangenti della vita. Metti tutto nelle mani di Dio, i tuoi pensieri, le belle avventure della tua fantasia, le tue nobili ambizioni umane, altrimenti, presto o tardi, colleranno a picco col tuo egoismo. Imitiamo quella donna di Betani che mostra il suo grande amore al Signore rompendo per lui un vaso di olio profumato, di vero nardo, assai prezioso. Quella donna non vuole riservarsi niente, né per sé né per alcun altro. È un gesto di donazione senza riserve, di amicizia, di affetto profondo per il Signore. E tutta la casa si riempì del profumo delunquento, afferma il Vangelo. Anche di noi rimarranno gli atti di amore e di dedizione a Gesù, solo questo. Il resto andrà perdendosi e scorrerà via come acqua di fiume. La generosità con Dio deve manifestarsi nella generosità verso gli altri. Ogni volta che avete fatto queste cose, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. È proprio della generosità saper dimenticare al più presto i piccoli screzi che possono verificarsi nella convivenza quotidiana. Saper sorridere e rendere la vita più amabile agli altri. Saper giudicare con animo grande e comprensivo il prossimo. farsi carico farsi carico delle incompense meno gradevoli del lavoro e della convivenza. Saper accettare gli altri così come sono senza dar troppo peso ai loro difetti. Saper dare un tono positivo alla nostra conversazione e quando occorre farne a qualche piccola correzione. Saper evitare la critica negativa spesso inutile e ingiusta. Soprattutto saper rendere agevole il cammino a chi ci sta accanto perché si avvicini di più al Signore. E questo è quando di meglio possiamo dare agli altri. Supplichiamo questa sera la Vergine Maria che ci insegni a essere veramente generosi in primo luogo con Dio e poi nel servizio agli altri e a quelli che vivono e lavorano vicino a noi nella vita ordinaria di ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato.